Buongiorno e benvenuti alla seconda edizione dell'EOPLUS Talk, siamo al secondo appuntamento della giornata, dell'Innovation Challenge, lo facciamo con un parterre di eccezione che è qui con me per parlare di ingegneria, personalizzazione e nuovi modelli di omnicanalità, lo facciamo anche in un confronto cercando di fare un parallelo tra due mondi che sono quelli della gioielleria e dell'orologeria, lo facciamo con degli ospiti di eccezione che vi presento subito, Roberto Di Benedetto, founder e CEO di 925, Ivan Consoli, owner di Serafino Consoli, Filippo Nembrini, direttore generale di Secco Italia, Maria Cristina Squarcialupi in collegamento da Arezzo, presidente di 1R. Grazie Cristina per la tua disponibilità, è stata una giornata intensa ed è una giornata intensa. Allora, iniziamo subito da te Cristina, sei l'unica donna di questo panel a più voci, tu sei presidente di 1R che è un gruppo storico che a breve, tra pochi anni, compierà 100 anni, quindi sei titolata a poterci fornire una fotografia d'eccezione, di eccellenza soprattutto, sul cosa vuol dire fare innovazione nel settore, in che modo 1R ha fatto innovazione in 100 anni di storia e cosa sta facendo per continuare il suo percorso? Come hai detto te, in 100 anni possiamo dire di aver esplorato tutti i campi dell'oreficeria, non solo dal punto di vista tecnico, perché siamo passati, si può dire, dai primi monili completamente artigianali, fatti a mano, cioè che erano dei veri e propri pezzi unici alla produzione in serie di articoli che tuttora rappresentano il nostro core business, come sicuramente le fedi inuziali. Ad esempio negli anni 70 siamo state fra le prime aziende a collaborare con dei centri informatici di eccellenza, vedi l'Olivetti, l'IDM, per la gestione dei pesi dei nostri oggetti, della contabilità metallica e quindi a situire un sistema di gestione produttivo basato su dei sistemi informatici, che a tutt'oggi ci consente una tracciabilità totale dei metalli e di tutti i prodotti presenti in azienda. Sicuramente abbiamo innovato anche nel campo del design. La nostra produzione ha anticipato il trend della moda e anche del gioiello vissuto come accessorio. Oggi, come ieri, proseguiamo su questa strada, continuiamo nella ricerca di nuovi materiali, di processi produttivi capaci di conciliare la tecnica oggi anche con concetti più moderni, quali il risparmio energetico, l'attenzione all'ambiente, alla salute dei lavoratori, minori scarti di lavorazione e anche una più puntuale progettazione dell'oggetto, che oggi deve iniziare a rispondere anche a tematiche quali ad esempio l'analisi del ciclo di vita. Ricordiamoci, lo dico sempre, lo sai che l'industriografa è sempre stata all'avanguarda in affrontare il concetto che oggi è così di moda come la circolarità. Per ovvi motivi, l'oro è moneta, ha un valore intrinseco e come tale ogni scarto deve essere recuperato e riciclato. Ecco, io direi che una delle grandi innovazioni del passato di una R è stata quello di fondare Chimet, che da quasi 50 anni è leader mondiale per il recupero e la produzione non solo di oro e di argento, ma anche di metalli, quelli strategici e critici come tutti i metalli del gruppo del Platino. Quella è la strada su cui ci stiamo muovendo. Poi dopo allora faremo un passaggio ulteriore proprio con un focus magari su Chimet e sul tema della sostenibilità e del recupero del metallo. Adesso volevo parlare, fare un passaggio con Ivan. Ivan, cito una tua frase storica, noi facciamo solo invenzioni, non farò mai cose che fanno gli altri. Io direi che partirei proprio da questa tua frase che è un po' l'incipit di un racconto che poi parte dal lancio della collezione che è proprio chiamato Brevetto. Quindi secondo me è una collezione che in qualche modo sintetizza la tua visione e il tuo approccio a cosa vuol dire innovare nel settore della gioielleria. Non per caso, nasce da uno studio, da un'osservazione, dal fatto che tu avevi notato un gap, un gap tra domanda e offerta, tra domanda del consumatore finale e da quello che offrivano le aziende. Il nome Brevetto è la conseguenza di un percorso che nasce logicamente tanti anni fa ed è un percorso stato straordinario perché deve per forza partire dalla voglia di conoscere, quindi noi siamo fermamente convinti che la conoscenza poi genera competenze e quindi già da ragazzo devi assolutamente studiare, fare analisi, fare esperienze, ma la cosa fondamentale che per arrivare oggi è stata la conoscenza, la relazione che ci sono tra le persone che devi cercare di conoscere, quindi ascoltare veramente tanti aspetti nel campo della gioielleria, camporologeria e di altri campi industriali, in modo tale da arrivare ad una visione di insiemi, che secondo me è il punto nevralgico, quindi avere una visione di insieme di tutto come si fa, tutta la parte produttiva, tutta la parte di commerciale, di marketing, avere delle conoscenze veramente alte con i collaboratori che hai conosciuto e le persone che hai ascoltato e fare poi di questo tesoro per arrivare poi a avere una visione e la visione è venuta da una domanda semplicissima che chiunque persona entra in una gioielleria ti fa una domanda, quando acquisto un anello, una volta acquistato ti dice ma se non dovesse andare bene me lo sostituisce o me lo mette a misura? Da lì ho detto cavolo nessuno ha mai provato quello, comunque ci ha provato ma non avere dei risultati così eclatanti e da lì è iniziata una storia abbastanza incredibile perché tutte prove, tutto non si riusciva e quindi bisognava inserire la meccanica e quindi pian piano, dopo una decina d'anni ce l'abbiamo fatta, quindi noi italiani lì siamo bravissimi a perseverare, a costanza, sacrificio, le notti insonni per arrivare poi un giorno a quello e ce l'abbiamo fatta finché è arrivato poi il certificato di brevetto di invenzione meccanica che permetteva questi movimenti e quindi oggi siamo orgogliosi di esserci arrivati però è stata abbastanza dura però ce l'abbiamo fatta. Ecco, in questo confronto, in questo momento di conversazione ho voluto un po' mettere insieme due mondi che vanno un pochino a braccetto per certi aspetti, quindi la gioielleria e l'orologeria con Filippo Nembrini di Seco Italia, quindi il concetto è un po' quello di mettere insieme appunto processi innovativi, alta tecnologia, innovazione, creatività artigianale, quindi Seco è sempre stato definito l'artigiano del tempo dal 1881 se non erro, correggimi se sbaglio con le date, è sempre stato un pioniere in fatto di innovazione, peraltro in Giappone neanche in Svizzera che è un po' la culla, quindi volevo capire un po' con te Filippo la formula vincente di questo vostro modo di essere sempre innovativi, poi dopo ci racconterai quali sono stati gli step ulteriori fino ad arrivare a oggi con l'apertura peraltro del negozio a Milano, ci puoi poi fare un po' in sintesi questo escursus? Certo, sicuramente uno dei punti fondamentali da considerare è quello che hai detto all'inizio ovvero in Giappone, perché il Giappone comunque è un'isola fondamentalmente e anche se oggi sembra grottesco con la globalizzazione e tutto quanto, dal 1881 fino agli anni 60-70 ho dovuto sviluppare in house qualsiasi tipo di meccanismo, design, tutto creato in house perché non aveva a disposizione come l'Europa una vera e propria industria orologera, quindi neanche poter fare delle partnership con qualche concorrente per sviluppare un qualcosa di innovativo, quindi tutto quello che è arrivato era farinella del sacco giapponese diciamo così, tant'è che pochissimi sanno che nel 69 quando due cordate svizzere produssero il primo movimento automatico cronografo, in Giappone uscì proprio lo stesso anno ad opera di Seiko, il primo movimento cronografico automatico con innesto verticale e ruota colonna che sono due caratteristiche che sono il pane quotidiano dei cronografi moderni. La ribalta invece per Seiko arrivò proprio lo stesso anno per un progetto parallelo a questo con il lancio il giorno di Natale del 69 del primo orologio al quarzo al mondo, l'Astron, che fu veramente generò una tempesta perfetta nel mondo dell'orogeria meccanica mettendola in ginocchio, tant'è che poi fu anche un boomerang perché nel 75 anche Seiko fu costretta a smettere di produrre orologi meccanici per dedicarsi solo ai quarzi di cui era diventata leader. Tra l'altro questo primo orologio al quarzo, nonostante avesse la pila, ma era una grande innovazione, per renderlo ancora più prezioso era stato fatto in oro, in oro giallo e costava come una piccola utilitaria allora perché era veramente, la ricerca che c'era stata dietro era talmente tanta per cui dovevano rientrare in qualche modo almeno con i primi modelli e fu un successo planetario. Senti, il fatto di mettere insieme le vostre voci anche se appunto di mondi, come dicevo prima, vanno a braccetto però sono anche un po' diversi tra di loro e mi piace proprio il connubio, adesso arrivo infatti a te Roberto perché tu sei, per me sei un po' una case history, un caso di successo possiamo dirlo a tutti gli effetti perché tu hai fatto un po' il percorso inverso di quello che fanno tanti brand che partono magari dal multibrand, quindi da un approccio retail multibrand per poi arrivare al monomarca, cioè tu nasci da un piccolo laboratorio tuo di proprietà per poi appunto cominciare ad aprire dei negozi monomarca, se non erro sei quasi arrivato a 20, un po' meno, 17 ecco, in Italia, poi Ibiza, Svizzera, eccetera, sei a mio avviso un esempio di come si innova un po' andando un po' controcorrente, quindi ti definisci un'autodidatta e volevo un po' capire con te come si diventa un brand partendo esattamente al contrario di quello che tendenzialmente diciamo un po' un percorso quasi non dico obbligato ma insomma più scontato. Allora, sì, la storia di 925 sicuramente è particolare, nel senso che noi siamo diventati un brand col passare degli anni, ci siamo evoluti, siamo partiti con un piccolo negozio a Milano con annesso un piccolo laboratorio, da lì è stata la volontà di cercare di dare un'alternativa a quello che era il panorama del mondo della gioielleria più tradizionale, perché? Perché avevo percepito una mancanza nel settore, quando mi ricordo ai tempi avevo fatto la prima fiera a Toromina e mi ero reso conto che comunque sia sul mercato non esisteva una proposta per, sia per diciamo dei ragazzi più giovani, ma in generale mancava un posto dove poter riuscire a realizzare, trasferire, trasformare le idee dei clienti in oggetti. Quindi è nato proprio da un'esigenza, da una mancanza che avevo percepito sul mercato. Da lì noi ci siamo concentrati con una proposta che ci ha dato subito soddisfazione, siamo stati precursori nella personalizzazione, che è quello che poi ci ha contraddistinguo e ci ha portato avanti nel corso degli anni e ci ha fatto conoscere ed evolvere come brand. Il mettere a disposizione tutto quello che normalmente le aziende, tutte le strumentazioni, tutte le tecnologie che normalmente venivano utilizzate e sviluppate nel settore della gioielleria per fare produzione. La nostra intuizione è stata quella di utilizzare questo tipo di macchinari e metterli a disposizione direttamente per i clienti, che tutti gli effetti potevano interfacciarsi con noi per riuscire a ottenere quello che avevano in mente. Ecco, poi ritorniamo Roberto sul tema della personalizzazione che hai già un po' accennato e che fa parte un po' tanto di questa tua escalation. Volevo tornare a Cristina, noi ci siamo sentite tanto in questo periodo e abbiamo parlato tanto, poi il fatto di innovazione, cioè l'interpretazione, il modo di innovare in gioielleria si presta a molteplici interpretazioni, quindi si parla di innovazione di prodotto, di processi, però con te abbiamo parlato di innovazione anche parlando di sostenibilità. Tu sei un po' in questo la porta bandiera, no? Perché sei stata la prima azienda nel settore a introdurre il bilancio di sostenibilità. E giustamente tu mi dicevi, uno degli asset sui quali bisogna puntare per essere innovativi e rimanere sempre competitivi è quello di far sì che il bilancio di sostenibilità non diventi un progetto aziendale, ma diventi un'attività nel modello di fare impresa. Cosa sta succedendo però? Le aziende sono pronte? Bisogna intervenire in qualche modo? Ti ripeto un po' quello che ti ho detto, ovvero che la sostenibilità è sicuramente un asset imprescindibile per la competitività delle nostre aziende. Io dico sempre che chi rimane indietro è un pochino destinato a estinguersi come dinosauri, no? Ci si muove verso una gestione a sostenibilità che incederà in modo sempre più importante sui risultati delle aziende e che risponde alla crescente domanda dei consumatori, alle richieste anche del mondo finanziario, a una normativa più rigorosa. In questo ambito appunto il bilancio sostenibilità, cioè che è quel documento che comunica con trasparenza e obiettività gli impegni presi nell'ambito della responsabilità sociale di impresa, direi che diventa essenziale perché si rivolge a tutti i portatori di interessi. Portatori di interessi che vanno dalle istituzioni, ai cittadini, ai consumatori, fino agli investitori e ai fornitori. E quindi secondo me è da intendersi come un'opportunità. Mi chiedi se le aziende sono pronte? Allora ripeto, la sostenibilità non può essere ignorata o trascurata. Tra l'altro l'Europa conferma il proprio impegno e ha appunto da poco approvato questa direttiva sul report di sostenibilità con il quale vorrà dare degli standard condivisi e coerenti e questa prevederà un allargamento della platea delle imprese coinvolte a livello obbligatorio. In pratica in Italia si dovrebbe passare da poco più di 150 aziende a diverse migliaia e a queste si aggiungeranno si aggiungeranno poi tutte quelle aziende che stileranno il bilancio di sostenibilità su base volontaria proprio perché avranno capito che l'opportunità di promuoversi, di raccontarsi attraverso questo documento. Filippo scusa una domanda a te che esci un po' fuori dalla... Ecco nel settore dell'orologeria come approccio al tema della sostenibilità? Noi siamo tutti molto gioiello per quanto riguarda appunto soprattutto il riciclo diciamo dei metalli. Ma il settore dell'orologeria cosa fa? Ma allora diciamo che è un settore molto caldo quello del riciclo e della sostenibilità. Ci sono comunque dei piani decennali barra ventennali per arrivare comunque ad emissioni quasi nulle di CO2 difficilissimi da raggiungere però comunque in tutte le aziende c'è in ballo un piano di questo tipo. Molti brand stanno a seconda del loro diciamo DNA comunicativo mi viene in mente un brand in cui ho lavorato che è Ulysse Narden che ha come focus il mare e gli oceani come anche Seiko tra l'altro che ha attivato un programma di recupero dai fondali delle reti da pesca incagliate sui fondi per poi riciclarle farne cinturini farne però anche un passetto in più perché recentemente hanno lanciato proprio un orologio in cui la cassa le lancette il quadrante sono tutti fatti materiali riciclati di questo tipo. Per quanto riguarda Seiko c'è un programma come dicevo prima di emissioni quasi zero entro il 2030 e oltretutto noi abbiamo verifiche semestrali ogni filiale per capire quali azioni abbiamo intrapreso per uno aiutare delle ONG dedicate proprio alla salvaguarda dell'ambiente sul territorio nazionale ma anche in ufficio non abbiamo non stampiamo più dobbiamo prendere delle macchine che siano ibride quindi abbiamo una serie di piani per abbattere l'impatto anche nostro personale nel tragitto casa lavoro per esempio. Roberto passo a te perché questo è uno spunto che è venuto fuori anche di recente da nostre conversazioni quindi il tema appunto della sostenibilità applicata a una realtà come la tua che comunque è una realtà artigianale di piccole dimensioni insomma eccetera chiaramente prima parlavi anche della personalizzazione no io so che questo è un punto che adesso volevo appunto affrontare con te nell'ottica di fare un po' il punto dal 2005 a oggi quali sono state diciamo le tappe a tuo avviso più importanti salienti innovativi in termini tecnologici però mi ricollego al punto al tema della sostenibilità perché tu dicevi di recente che attualmente se non erro il 20 per cento di quello che producete è appunto su commissione quindi diciamo personalizzato però il tuo obiettivo è raggiungere se non erro l'ottanta per cento e in questo diciamo questo obiettivo si pone anche il modo in cui voi un po' vi relazionate al tema appunto dell'essere sostenibili quindi meno sprechi c'è meno quantità più qualità. Esatto noi diciamo che il controllo dei numeri quindi dello stock dell'analisi per i lanci di produzione per noi sta diventando un tema centrale da 925 nel senso che stiamo cercando di ottimizzare tutto quello che è i lanci le produzioni per riuscire è un po' il nostro modo di vedere realmente quello che è la sostenibilità cioè di produrre il giusto che serve per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati in termini commerciali e cercare di produrre quello che serve appunto per realizzare il nostro business attraverso sicuramente lo strumento che abbiamo sviluppato in questi anni dopo tanti anni di ricerca e sviluppo c'è il configuratore che attualmente oggi abbiamo a disposizione sia all'interno dei nostri negozi sia online che permette fondamentalmente di poter realizzare qualsiasi tipo di gioiello personalizzando quindi comunque proponendo e offrendo un gioiello unico e soprattutto lavorare quindi sull'ordinato fondamentalmente quindi riuscire a offrire sia un prodotto personalizzato ma un prodotto che viene ordinato quindi viene prodotto specificatamente per la nostra clientela tutto questo chiaramente ha richiesto tanti anni in termini di organizzazione di logistica perché non è un qualcosa che ci si può improvvisare perché se si vuole raggiungere un determinato tipo di volumi chiaramente tutto il lavoro che c'è dietro a livello di organizzazione è stato veramente veramente importante e abbiamo impostato tutto il nostro la nostra crescita anche su questo questo tipo di punto attualmente chiaramente il peso che abbiamo all'interno della nostra del nostro business che circa il 20 per cento che riguarda tutto il mondo custom l'obiettivo è quello di di crescere di far crescere questa percentuale di raggiungere sempre un numero maggiore questo perché perché permetterebbe chiaramente di poter produrre lavorare su quello che è un prodotto ordinato che il sogno penso di chiunque faccia commercio in generale ovviamente tutta la parte di ricerca a livello di organizzazione sia interna che esterna che i nostri fornitori richiede uno degli sforzi pazzeschi ogni giorno però è anche il bello del nostro lavoro perché sicuramente è quello che abbiamo sempre messo in questi anni cercare di realizzare nel più breve tempo possibile qualunque fosse il desiderio dei nostri clienti ecco ivan prendiamo proprio dalla frase di di roberto realizzare il sogno del del cliente no me la cosa che ha sorpreso ci conosciamo da un po di tempo quindi al di là della meraviglia del prodotto di prodotto insomma che realizzate e ho scoperto da poco me a colpa il fatto che la vostra società si chiama that's wow that's wow perché proprio devi stupire e rimanere appunto essere un sogno rimanere nell'immaginario del cliente finale però applicando voi applicate un sistema ingegneristico un sistema meccanico a un gioiello quindi mi spieghi bene questa relazione tra lo stupore quindi il that's wow e l'ingegneria che mettete a disposizione al servizio di un gioiello di alta gioielleria un pezzo di alta gioielleria that's wow è la mission aziendale e l'abbiamo chiamata la società l'abbiamo chiamata così quindi anche lì un percorso di scelte no che si fanno nella vita però non adesso che già il termine wow è ormai abbastanza inflazionato però tanti anni fa però quello è quello è il tuo indimenticabile wow il tuo indimenticabile stupore dove sia io personalmente ma tutti tutto lo staff tutto il team che noi abbiamo deve raggiungere il suo miglior risultato possibile e quindi il suo la sua meraviglia prima interiore che poi automaticamente arriva all'obiettivo dell'azienda perché è parte integrante noi non siamo proprio razionali nel senso mi piacciono i numeri ma non l'aritmetica che alla terza decimale la devo arrotondare alla seconda no mi piacciono alcune frasi di filosofia cioè in divenire in fieri attendere no quindi dove non sai quello che ti aspetti quando pensi a una visione a un qualcosa da fare non non devo vederla perché se la vedo vuol dire che ci sono già arrivati gli altri quindi non devo vedere alla fine quindi mi piacciono i numeri che vanno al un po all'infinito adesso sto esagerando però però è che che vadano oltre perché le persone che i miei collaboratori tutti siamo siamo liberi siamo liberi di poter esprimerci senza vincoli e allora lì che secondo me si le persone danno il massimo dell'espressione quando si sentono liberi quindi noi l'abbiamo messo proprio come clement dell'azienda poi col brand serafino consoli quello assolutamente ma l'azienda deve se il nome dell'azienda dove essere quello che poi noi andremo a fare tutto ciò che farà quell'effetto lo faremo poi sbagli torni indietro però essendo libero per tornare indietro per andare ma però teniamo ad occhio i numeri l'azienda deve andare in un certo modo numeri che volevo che vorrei un po approcciare con te Filippo adesso siamo a fine anno quindi escono vari studi analisi di 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 settore no e la l'art luxury quindi gioielli orologi sono sempre ovviamente accomunati in questi dati usciti di recente hanno rilevano un più 8 per cento per la gioielleria e una una crescita un po più cauta dell'orologeria con un più 5 per cento della sì dell'orologeria scusami segnata da una ricerca di pezzi unici e di fatto a mano ecco secondo te quali sono i punti di convergenza di queste due industrie di questi due comparti e quali e dove invece orologeria e gioielleria si discostano ma allora sicuramente il punto di contatto è che entrambi basano le loro e loro fondamenta se vogliamo dire così sulla tradizione quindi su tutta una tradizione di artigianato e di manifattura altro punto in comune chiaramente è visibile da tutti perché c'è una forte sovrapposizione di distribuzione di gioiello e orologio cioè molte orologerie vendono anche gioielli e viceversa sicuramente poi l'orologeria ha attinto molto a tutto quello che è il staff warfare della gioielleria perché tantissimi brand soprattutto di altissimo livello producono degli orologi gioiello quindi con lavorazioni metalli preziosi incastonature di pietre eccetera se vogliamo andare a vedere invece un po i punti che ci discostano e parliamo magari anche un po per luoghi comuni mi scuserete il gioiello forse è più appannaggio femminile anche se ultimamente ne parlavamo prima ha uno sdoganamento di anelle bracciali forte negli ultimi anni mentre l'orologio è prettamente più maschile quindi diciamo che il gioiello è più versatile dell'orologio da questo punto di vista. Ivan visto il tuo background comunque tu nasci dal vieni dal mondo retail perché appunto tuo papà Serafino aveva appunto avete un negozio no quindi vendete anche orologi quindi ne parlavamo appunto prima tu cosa ne pensi quindi questo punto di contatto e punto di dove si incontrano e dove si discostano questi due mondi? Parlando di alta orologeria alta gioielleria si uniscono che è la stessa clientela e l'orologeria diciamo secondo me è più matura uno perché sono grandi gruppi sono grandi aziende hanno dei budget veramente alti e hanno investito negli ultimi decenni tanto sull'informazione sulla cultura entrando nel raccontando la storia dei brand la storia ognuno per per sé ogni brand ha raccontato il suo ma in realtà raccontavano la storia la storia dell'orologeria i maestri ologiai il tempo e tutta anche l'evoluzione che c'è stata dall'inizio ai tempi odierni quindi fantastico idem anche la gioielleria ce li ha ma secondo me manca proprio quei grandi investimenti per far capire nuove generazioni quanto invece fondamentale l'arte orafa io tante volte guardo dei quadri antichi e vedo dei gioielli che sono rifiniti in una maniera particolare ma ad altissimo livello dico come è possibile che il pittore abbia decorato così bene abbia dipinto così bene quel gioiello ma perché in realtà poi scopro che la maggior parte dei pittori frequentavano le botteghe orafe quindi nel 500 nel 600 e quindi dice cavolo ma chi è che lo sa no e quindi anche noi guardiamo dei pittori grandissimi e dice cavolo ma questi per trovare la manualità hanno dovuto frequentare arte i maestri orfi dei tempi le botteghe quindi c'è tantissimo da raccontare ancora dalla storia che non va perduto e spero nei gruppi che sono quelli che possono finanziariamente fare o l'istituzione di puntare molto sulla cultura e per un rilancio della gioielleria dal punto di vista culturale qui insomma vivete tutti in realtà più o meno simili diciamo mettiamola così Cristina nell'ultima intervista che hai appunto rilasciato insomma su Vio Plus abbiamo parlato tanto di innovazione legata a modelli distributivi e mi dicevi che oggi a tuo avviso innovare vuol dire anche andare oltre l'omnicanalità scusate era interessantissima questa cosa che stavate dicendo sul comunicare il mondo orafo è una cosa che veramente ci stiamo puntando tutti perché ha ragione è un mondo che affonda le sue radici fin dagli etruschi ma addirittura anche prima perché noi troviamo dei gioielli veramente fin dalla notte dei tempi però ad oggi è un mondo che per i ragazzi è un po' lontano esistono queste grandi aziende che hanno bisogno hanno bisogno veramente di loro hanno bisogno di giovani di nuove menti di nuova ninfa anche parlare appunto della necessità di comunicare di arrivare appunto ai giovani che conoscono molto poco questo settore non hanno una visione del settore diciamo contemporanea e fresca ritornando invece alla domanda di prima cosa si può fare dal punto di vista distributivo perché probabilmente approcciando e rivedendo dei modelli distributivi si riesce ad arrivare laddove forse con la comunicazione ancora non si arriva e qui forse ritorniamo alla domanda di prima col modello col superamento dell'omni channel questa è una dimensione che ormai fa parte del sistema aziendale va assolutamente approfondita per migliorare la conoscenza del consumatore finale attraverso i dati per forza per ridurre la distanza tra il brand e il brand del cliente in modo da dargli poi tutti gli strumenti per acquistare per acquistare dove vuole no andare oltre l'omnicanalità significa comunicare in maniera specifica diretta ciascun cliente intercettando poi i suoi reali bisogni significa approfondire la conoscenza dei clienti per capire cosa si aspettano dai loro brand di fiducia e questo significa anche sviluppare all'interno delle aziende di sistemi che aiutino tutte le funzioni aziendali a costruire una comunicazione efficace sia sui prodotti che sui servizi qui ci vengono in aiuto dei sistemi di gestione dei dati dei clienti anche di gestione delle informazioni di prodotto tra l'altro noi stiamo spingendo molto per digitalizzare anche in ambito b2b perché poi in pratica chi compra per le aziende cioè i consumatori che acquistano prodotti online privatamente sono gli stessi poi che effettuano gli ordini per le aziende e quindi sono abituati ad acquistare online e anche in quel campo lì ci stiamo ci stiamo stiamo facendo passi da giganti ecco. Filippo voi avete aperto Seiko il negozio Seiko in via della spiga a Milano no è a fronte di una diciamo strategia di riposizionamento se non erro del del brand un punto vendita in cui si può trovare cioè il punto del cliente può trovare tutta la gamma di 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 orologi di di orologi Seiko e appunto mi dicevi che questo per voi rappresenta anche un po' una sorta di nuovo rinascimento del brick and mortar rispetto alle piattaforme digitali eccomi fai un po' la una fotografia del della vostra esperienza poi in prima persona dell'apporto proprio della necessità oggi di ritrovarsi nel negozio fisico e di come questo affronta appunto anche un po' di un calo invece della dell'e commerce si assolutamente vero il diciamo che il leggero calo però costante calo dell'e commerce secondo me è dovuto alla necessità del consumatore di tornare nel negozio fisico dopo tutti gli anni di pandemia che abbiamo vissuto nonostante in quegli anni gli commerce abbiano funzionato molto bene perché le vendite erano sempre comunque alte perché quando sei chiuso in casa una gratificazione te la dovrai dare fondamentalmente per quanto riguarda la boutique di milano secondo me è sicuramente ai suoi obiettivi chiaramente di fatturato ma è un po' il flagship e il sunto la summa della nostra produzione come dicevi tu dove gli utenti possono conoscere effettivamente il nostro dna perché in italia siamo conosciuti soprattutto per prospects la linea sportiva ma c'è anche tutta una serie di lavorazioni artigianali in smalti lacche porcellane per quanto riguarda l'online noi abbiamo aperto un po' in ritardo perché la filiale italiana è piuttosto giovane è stata fondata nel 2018 prima eravano distribuiti secondo me io ho un concetto di commerce per l'hard luxury comunque per dei prodotti che vanno da una certa soglia di ingresso in su ovvero che devono essere trattati esattamente come se fossero un brick and mortar virtuale perché non posso mettere dei prodotti di un certo livello esporli come se fossero su amazon con tutta la dignità di amazon del caso secondo me ci deve essere anche un rapporto vis-à-vis con qualche operatore che mi spiega mi racconta mi fa vedere l'orologio esploso in tre dimensioni tutto il movimento cioè ci vuole un altro tipo di approccio chiaro ci vogliono degli investimenti però il mio concetto è che l'e-commerce di un certo livello deve essere esattamente come un brick and mortar comunque la sua importanza non va a morire perché oggetti come i nostri li devi provare prima di acquistarli quindi fungeranno un po' da in futuro da showroom diciamo così Roberto tu che sei un po' insomma hai fatto il tuo percorso da brick and mortar però adesso hai appunto con il configuratore quindi la possibilità di personalizzare attraverso appunto la piattaforma di e-commerce quindi tu viaggi veramente in parallelo qual è il tuo punto di vista la tua esperienza personale nella coabitazione di questi due modelli immagino entrambi vincenti e integrati per noi il lato e-commerce è sempre stato un asset importantissimo nel quale già da tanti anni abbiamo deciso di investire internamente con la costruzione di un team interno che ci ha permesso poi anche soprattutto negli ultimi due anni di poter gestire le vendite da remoto per noi il sito fondamentalmente è l'alter ego dei nostri negozi noi abbiamo sempre siamo partiti con dei negozi fisici abbiamo portato il servizio chiaramente la clientela all'interno dei nostri negozi e stiamo cercando di replicarlo anche nel nostro e-commerce chiaramente cercando di far vivere un'esperienza a 360 gradi e cercando di quindi non lasciare un sito freddo ma cercando di far vivere un'esperienza al momento in cui si accede a 360 gradi con dei servizi diretti anche di contatto con la possibilità di far conoscere la storia di 925 di far vivere un'esperienza assolutamente al pari di quella che si può vivere all'interno dei nostri negozi è una sfida che chiaramente richiede un impegno costante, continuo, quotidiano in quello che è lo sviluppo dei contenuti però devo dire che siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo ripeto, è un continuo evoluzione quindi è un qualcosa dove non ci si può mai fermare però questo vale ormai da parte della nostra storia Ivan, secondo te nell'alta gioielleria è applicabile un modello come quello di 925? mai dire mai però oggi soprattutto nell'alto di gamma toccare e vedere è ancora fondamentale anzi spero che lo sia sempre che sia sempre così però dipende dalle evoluzioni tecnologiche dall'evoluzione perché se parliamo di realtà virtuale ci sono tante tecnologie che verranno che permetteranno di vederlo anche lì però il tatto è fondamentale io vorrei fare una domanda a chiusura un po' per tutti la metto così al centro abbiamo parlato in questo panel di brevetti sistemi tecnologici, innovazione che passa appunto per anche nel modo di comunicare nel modo di approcciare la sostenibilità un recente studio di Bain parla invece di innovazione come anche quella capacità di adattarsi all'incertezza visto che di incertezza ahimè parliamo quasi tutti i giorni ormai facendo leva sull'avanguardia culturale e sull'eccellenza cosa ne pensate? Maria Cristina? io quando penso all'innovazione penso sempre a Steve Jobs che diceva think different cioè l'innovazione è quella creatività che poi serve per reinventare la tua azienda i tuoi prodotti i tuoi servizi e noi italiani ce lo siamo detti anche poco prima al di là di tanti difetti riconoscibili, riconosciuti siamo bravi ad adattarsi al cambiamento abbiamo quella famosa resilienza ci sta bene addosso e la nostra avanguardia culturale come dici te eccellenza non si sono mai spente nei corsi e ricorsi delle vicende storiche politiche e questa credo sia la base solita su cui appoggia tutta la nostra creatività e capacità di fare impresa anche in momenti meno felici come sono stati gli ultimi anni sembra se ci pensate sembra di vivere quasi una quarta rivoluzione industriale nonostante l'atmosfera intorno non sia delle migliori ecco poi i numeri ci sostengono ci vi sostengono perché insomma no? quindi diciamo che al di là appunto dell'incertezza che insomma hai messo più fronti ma io direi anche di continuare a puntare sul Made in Italy per me è un aspetto veramente importante è un qualcosa che credo tantissimo e ho sempre voluto mantenere la produzione in Italia perché penso che l'eccellenza è l'unica cosa che ci può salvare in questi tempi difficili poi penso che la nostra capacità produttiva è riconosciuta sempre di più soprattutto nell'ambito del gioiello secondo me siamo ancora veramente un'eccellenza sappiamo ben unire come diceva lui con il Made in Italy la capacità artigianale all'industrializzazione e quindi questo ci porta ad avere delle aziende veramente che sanno reagire di fronte di fronte all'avversità e non è un caso come dicevi te tu che tutti i grandi brand della moda non solo della gioielleria vengono a produrre in Italia non è assolutamente un caso Filippo vuoi aggiungere qualcosa? l'idea del pensiero disruptive che diceva prima Ivan che è un po' la sua filosofia è fondamentale volevo raccontare un piccolo anedito che riguarda Seiko Seiko è stato nel 64 il official timekeeper delle Olimpiadi e poi ha continuato con il mondiale non so se vi ricordate la foto di Bolt con il record del mondo e di fianco a un timekeeper Seiko per quell'occasione fornì molti strumenti tra cui la prima stampante elettronica che fu chiamata EP in codice qualche anno dopo decise di produrla negli anni 80 a livello globale e da lì decise di chiamare il primo prodotto la figlia di EP Epson Epson computer nasce da una cosa come le Olimpiadi e da una ricerca come le Olimpiadi quindi il pensiero distruttivo poi ti riporta anche a camping che non c'entrano niente con il tuo campo di partenza Ivan, so che volevi dire qualcosa No? Niente? Non ti condividi Ok, allora io vi ringrazio ringrazio Roberto Di Benedetto Grazie a voi Ivan Consoli Filippo Nembrini Maria Cristina Squarcialupi Grazie infinite Cristina Grazie a tutti e vi auguro un buon proseguimento con il prossimo panel Grazie a tutti